Vado subito a presentarvi i nostri ospiti, qua in studio con me c'è Alessandra Del Valle, politologo, il suo ultimo libro è Il complesso occidentale, piccolo trattato di decolpevolizzazione, edito da Paese Edizioni, Del Valle si occupa oltre alla parte politica. Prima di arrivare a te vorrei chiedere ad Alessandra Del Valle, abbiamo detto quanto può durare lo stress per la comunità israeliana, per i Paesi Arabi, per l'Occidente e Tukur, però la domanda che io le voglio fare è molto più specifica, c'è un rischio di incremento del terrorismo a causa della situazione che si è venuta a verificare a partire dal 7 ottobre in Israele? Certo, in Europa c'è un grande rischio, prima di tutto c'è un romanzo di Goethe che si chiama, che faceva come eroe Werther e da lì è nato il sindrome Werther, il sindrome Werther è quando uno si suicida, molte persone vogliono suicidarsi e questo è stato applicato al terrorismo, quando c'è un attentato terroristico molto legittimato, perché la causa palestinese è molto legittimante, può dare idea a molti altri attentatori, molti altri terroristi. Lo si è visto a Parigi con l'assassino del professore, pochi giorni dopo, e lo si è visto in Belgio e questo lo si è visto quando? Dopo che Ismail Anie e anche Daif, però, Ismail Anie dal Qatar, amico dell'Occidente, ha dichiarato una specie di discorso di jihadismo mondiale a resistere, non solo a Israele, però al Yahud, vuol dire in arabo gli ebrei come ebrei in se stessi e quindi questo è stato una chiamata al jihad mondiale che è stato molto ben capito in Europa e la causa palestinese, essendo molto legittimante, è la causa delle cause per il mondo arabo, questo ha ridato una legittimazione, una banalizzazione del jihadismo che era visto come qualcosa di orribile di ISIS, però molti pro palestinesi sono anche legati alla sinistra, all'estrima sinistra, alle moschee normali, quindi molte persone che sono vissute nel pro palestinismo, nell'odio al sionismo, dal 7 ottobre si sono detti che magari il jihadismo è solo una reazione al genocidio perpetrato dal diavolo israeliano. Allora magari quando io voglio fare un attentato jihadista contro un cristiano blasfematore in Europa è solo la conseguenza di quello che succede in Israele, perché gli arabi e i musulmani, dicono i fratelli musulmani, sono considerati come delle persone bruttissime, c'è l'islamofobia, i musulmani sarebbero perseguitati in tutta l'Europa infedele che ci imporrebbe delle leggi secolari, laiche, quindi questa paranoizzazione che ho spiegato in questo libro, che è la guerra psicologica, questa paranoizzazione è preparata da italiatori di lingue, italiatori di lingue, italialingue sono quelli che ti fanno tacere perché dicono che sei islamofobo, però poi italiagola vogliono applicare ciò che hanno detto italialingue, siccome noi siamo tutti islamofobi, perseguitiamo i musulmani, blasfemiamo, insultiamo il profeta, facciamo delle guerre ingiuste nel Medio Oriente e noi sosteniamo i carnefici israeliani che ammazzano ogni giorno piccole bambine palestinese, è giusto massacrare anche un cristiano perché il cristiano occidentale aiuta l'ebreo in Palestina, quindi questo... La prospettiva è inquietante professore, è molto inquietante, basta sapere che nel mio paese abbiamo liberato la Francia, perché sono ideologo francese, però sono francese prima di tutto, abbiamo liberato più di 460 predatori o tornati dalla Siria o che non sono potuti andare in Siria... Diciamo che sono ex dell'ISIS o simpatizzanti, chiamiamoli così... O simpatizzanti, condannati perché hanno provato o hanno perpetrato o partecipato ad attentati per sgozzare, per ammazzare, quindi gente molto pericolosa, non solamente ideatori, ne abbiamo liberato quasi 500, la stessa cosa proporzionalmente in Belgio, in Svezia, in Inghilterra e in Germania, cioè i paesi con più comunità islamiche. Ma perché non si possono tenere d'occhio questi? Le do un esempio, il capo della polizia francese mi diceva di recente, abbiamo bisogno di 15 o 18 persone per sorvegliare veramente un predatore che è stato liberato e abbiamo neanche il decimo di funzionari... Dobbiamo usare un'altra parola perché noi qui in Italia come predatore intendiamo predatore sessuale. Dobbiamo trovare un'altra parola, predatore significa potenziale terrorista. Un potenziale terrorista, però quando dico predatore perché abituate al sangue, quello che torna dalla Siria che ha tagliato delle gole, i psicologi dicono che lui ha preso il gusto, ha preso il piacere e i giudici per i bambini dicono che dopo 13-15 anni quello che ha preso le abitudini al sangue ne ha preso anche il piacere, tornerà ad esserlo. È molto difficile su cento, quello che chiamo io predatore, voi sanguinatori, sgozzatori, la maggioranza saranno quasi impossibili di stradicarli. E queste persone sono in libertà e non abbiamo i mezzi finanziari e umani, non abbiamo abbastanza funzionari per controllarli. Magari in Italia sì, perché voi avete una grande abitudine del terrorismo e ho saputo che su questa cosa siete più bravi degli altri paesi europei. Tocchiamo ferro. Negli altri paesi non siamo in grado di vigilare, di controllare, di impedire di agire queste persone per mancanza di personale. Ne abbiamo bisogno più o meno di 10 volte di più. Quindi questo è un grande problema. E poi abbiamo affidato i nostri musulmani a delle associazioni come i fratelli musulmani che pure loro giustificano il jihadismo del Hamas. Perché il Hamas? Proviene dai fratelli musulmani. E i fratelli musulmani in Italia, che sono molto presenti, con Lukoi eccetera, quando prendono soldi, chiedono soldi ai loro fedeli a favore della bella causa palestinese. Questo denaro dei fratelli musulmani nelle vostre e le nostre moschee non va in Cisjordania, va direttamente nelle casse del Hamas. Quindi c'è un problema strutturale. E poi per concludere, il paese che più li aiuta è il nostro paese amico, il Qatar, dove ci sono le basi americani, dove c'è tutta la sede del Hamas. Non bruciamoci su un inciso breve, la prego Segre, perché poi continuiamo con la discussione su quello che ha detto il professor Del Valle. Sì, assolutamente. Per rimanere all'interno della domanda di quanto a lungo si può tenere questa situazione di incertezza rispetto non solo al Medio Oriente o a Eseere, ma rispetto all'Europa. Quello che dice il professor Del Valle è giustissimo, nel senso che ci sono limiti agli strumenti che noi possiamo mettere in campo rispetto alla capacità di controllo della situazione. Allo stesso tempo, e questo si è visto anche in Israele, Israele negli ultimi vent'anni avendo un po' abbandonato, adesso senza andare alla ricerca delle cause e dell'abbandono, una ricerca di soluzione politica al problema, si è affidato molto a una soluzione tecnica di controllo, di mantenimento strumentale della situazione di sicurezza. Il 7 di ottobre, tra le altre cose, ha dimostrato il fatto che avere soltanto una politica di controllo, di mantenimento della sicurezza, non funziona, non basta. Quindi ben venga in Israele quanto in Europa un atteggiamento attento, intransigente e forte nel mantenimento dello strumento tecnico del controllo della sicurezza, come facciamo a fare quell'altro pezzo che invece la sicurezza e la tecnica non possono fare da soli? Ovvero come mettiamo in piedi? In Israele ovviamente... Stamattina sulla stampa c'è un lungo articolo di Domenico Quirico, ricordiamo, inviato di guerra che è stato anche sequestrato dall'Isis, che inizia così. Israele ha perso la guerra, non posso leggerlo tutto, però il concetto è che Hamas di fatto comunque finirà, uscirà vincitore, anche perché l'opinione pubblica mondiale è una cosa di cui Hamas non ha il problema di preoccuparsene, può usare i mezzi che vuole perché si proclama forza rivoluzionaria, mentre invece sa che questo è un incubo per Israele. L'opinione pubblica è qualcosa di immateriale estratto, non ha diplomazia né eserciti, ma può essere più forte di entrambi, soprattutto in un occidente stanco ed egoista che vuole impietrire il mondo in un senso di benessere, in un ordine apparente. Vorrei chiedere un commento ai nostri ospiti a partire da Del Valle. Sì, il Hamas ha fatto un colpo di genio, è orribile dirlo quando un movimento è terrorista, però quello che chiamo nei miei libri il genio del terrorismo è proprio questo, colpevolizzare quelli che aiutano il negoziato con Israele. Molti paesi arabi volevano negoziare con Israele, il Hamas è riuscito... L'accordo di Abramo, ricordiamo. L'accordo di Abramo. Il Hamas è riuscito a dire sono l'unico che io lotto per la Palestina, voi siete dei traditori. Quindi questo è stato un colpo di genio. E poi perdere territori, è vero che hanno avuto sconfitte territoriali come l'ISIS prima, però stanno conquistando menti, stanno conquistando cervelli, cuori e secondo me se ci sarebbe oggi un sondaggio o un'elezione in Cisjordania, quello che non vogliono gli altri, magari il Hamas sarebbe vincitore perché il Hamas ha stufato la gente di Gaza, perché è un movimento totalitario che non piace alla gente dominata. Però quelli che non hanno conosciuto il governo totalitario del Hamas in Cisjordania, credono che una cosa buona è come gli iraniani. Gli iraniani prima di avere la rivoluzione islamica in Iran credevano che Khomeini era il padre della nazione e molti di sinistra l'avevano aiutato, l'avevano non votato, però chiamato ad essere uguali. Quelli che non hanno conosciuto l'orrore del terrorismo e del totalitarismo quotidiano del Hamas in Cisjordania hanno l'impressione che sono governati da traditori perché oggi come oggi, tutti i giorni in Cisjordania si collabora con Israele, il Shin Beit, il Mossad, la polizia israeliana, ogni giorno caccia delle persone con l'aiuto dell'autorità palestinese, il Fatah. Il Fatah è totalmente delegittimato, questo è il colpo di genio di Hamas. Come l'ISIS, diceva Adnani, ex portavoce dell'ISIS, perdiamo territori, voi credete che ci avete sconfitto, però noi guadagniamo ogni giorno cervelli. La prova, molti studiosi in America hanno dimostrato che più l'islamismo radicale colpisce anche di un mondo barbaro, stranamente dopo ci sono più persone che si addestrano, aderiscono all'islam radicale, mettono il velo, parlano della sharia, si presentano come vittime dell'islamofobia perché dopo ogni attentato islamista c'è qualcuno che dice magari ci hanno sgozzato perché loro li abbiamo provocati, li abbiamo perseguitati con l'islamofobia, con le guerre in Iraq, quindi il genio dell'islamismo è che più colpisce di un modo barbaro, più noi colpevolizzati, ciò che spiego in questo libro, ci chiediamo magari loro sono barbari perché li abbiamo umiliati d'un modo tremendo, dalle crociate, la colonizzazione, poi sostegno al sionismo diabolico, il piccolo Satana. Quindi questo è il genio del Hamas e lei può guardare i democratici americani. Dal 7 ottobre Biden sta perdendo voti fra i giovani del Partito Democratico che sono più terzomondisti, walkisti, più tolleranti, più multiculturalisti, sedotti dal messaggio contro l'islamofobia, l'inclusione e molti di questi giovani adesso non vogliono più votare per Biden, questo potrebbe essere un aiuto per Trump. Quindi il Hamas è riuscito a sedurre sia palestinesi in Giordania e in Sigiordania e in Libano, sia molti paesi arabi come la Tunisia. Guarda la Tunisia lottava contro i fratelli musulmani, adesso la Tunisia ha detto che il Hamas è fantastico, ma il Hamas è fratello musulmano, quindi anche paesi che lottavano contro i fratelli musulmani, che il Hamas è un ramo, adesso devono dire che il Hamas ha ragione, quindi ha vinto la guerra di rappresentazione, quello che chiamo guerra psicologica. Grazie professore. Allora, sono tornati i populisti dopo i risultati in Argentina e in Olanda. Per Pino Sarcina, che è intervenuto poco prima della pubblicità, ha ridimensionato i casi, uno che è molto molto lontano da noi, vale a dire l'Argentina, e un altro caso che è altrettanto, come dire, unico che è l'Olanda. Perché è unico? È unico Wilders. Wilders è unico perché lui, alla differenza di alcune estreme destra, lui nasce come un sessantotesco, un sessantontino, uno come Van Gogh che è stato assassinato, a lei si ricorda? Van Gogh, il famoso, è stato assassinato. Parente del pittore, non il pittore. Parente del pittore, che è stato assassinato perché mostrava delle donne musulmane, con un po' di blasfemio del Corano sulla pele, che levavano, tolievano il velo, e lui diceva donna musulmana puoi fare quello che vuoi con il corpo, che questo fu tremendo, fu recepito come qualcosa di orribile, una provocazione, e fu ammazzato per blasfemio. Poi Pim Fortuim fu ammazzato da un ecologista radicale che pure lui accusava Pim Fortuim di essere anti-islamico. Però Van Gogh e Pim Fortuim erano promosessuali, pro libertà sessuale, non erano conservatori, fascisti, nazisti o integralisti cristiani. Lo facevano in funzione quasi di sinistra, della vera sinistra atea antireligiosa. Wilders nasce da questo, lui è molto liberale. Dovremmo avere anche le immagini proprio di questi giorni di Gert Wilders, così ricordiamo i telespettatori che anche la faccia è particolare. La faccia è particolare. Wilders non è un conservatore oscurantista, non è neanche di estrema destra, non proviene dal fascismo, dal nazismo, anche dall'integralismo. Nasce come uno che dice in Olanda siamo liberi, abbiamo sempre accettato da Spinoza la libertà di criticare le religioni, perché ci sarebbe una differenza, un'eccezione per l'islam. Perché? E questa è una coerenza interessante perché anche in Svezia, che è un paese molto liberale, la Svezia ha dato molto spazio agli islamici più radicali, questi due paesi, le destre di questi due paesi dicono noi siamo stati traditi, abbiamo accolto tutti i radicali, tutti i musulmani, moderati e non moderati, gli abbiamo dato spazio, città intere dove c'è anche l'appello al Corano, il minareto, eccetera. E in cambio fanno delle risse, fanno delle manifestazioni violenti, bruciano le bandiere israeliani, ammazzano nelle strade le persone accusate di blasfemio, però noi siamo nel paese del blasfemio, loro dicono così, un po' come Charlie Hebdo, la Francia è il paese del blasfemio, della rivoluzione francese, l'enciclopedia. Io come di origine italiana a me non piace il blasfemio, io rispetto le religioni, però la Francia è così, la Svezia è così, l'Olanda è così, perché dobbiamo distruggere i valori fondamentali per oscurantisti che loro non accettano nessuna critica, neanche fare barzellette sulla religione. Non dico che lui ha ragione, però non è la stessa cosa che un'estramadestra razzista, però il genio dei fratelli musulmani è di fare credere che se tu critichi la religione islamica sei razzista, però il razzismo è la razza, il razzismo è il colore di pele, è la segregazione all'americana o Africa del Sud. Criticare una religione è quello che chiedono i rivoluzionari in Iran, quelli che vogliono togliere il velo islamico in Iran, che sono milioni, loro dicono il diritto al blasfemio, quindi secondo me è un errore dell'Occidente equiparare questi populisti tipo Wilders a dei razzisti, è piuttosto una specie di sessantotismo, di liberalismo religioso, di critica, di ragione, di razionalismo contro il fatto che la religione non sarebbe criticabile, quindi è molto libertario. Per questo faccio la differenza tra i liberal populisti e l'estrema destra, perché i liberal populisti sono tutti pro israeliani adesso, sono tutti pro ebrei, anche Marine Le Pen è stata legittimata di recente perché lei ha detto noi siamo liberi, siamo una società aperta perché dobbiamo lottare contro i nostri valori per far piacere a degli islamici radicali che non rappresentano tutti i musulmani. La maggioranza sono fratelli musulmani, Salafiti e Miligurus Turco. Queste organizzazioni fanno paranoizzare le persone, fanno credere ai musulmani che sarebbero perseguitati nelle nostre società fondamentalmente razziste. Il razzismo sarebbe solo il fatto di essere laico. Non dobbiamo cadere nella trappola. E poi, se permetterai, volevo mostrare solo una piccola cosa che ha scritto Suab Zbai, ex deputata marrochina, musulmana, con la scusa dell'islamofobia. Si vuole limitare la libertà d'espressione impedendo che la società civile politica denunciano il fondamentalismo in tv e i suoi giornali non bisogna cadere nella trappola. Lucoi, fratelli musulmani in Italia, non rappresenta tutti i musulmani. Dobbiamo salvare i musulmani dall'influsso dei radicali. E la colpa dei nostri dirigenti in Francia e in Italia da 40 anni è di aver affidato le comunità islamiche a dei barbuti radicali, come noi li chiamiamo, che hanno fatto paranoizzare questa gente, gli hanno fatto credere che siamo tutti razzisti.